Grande attenzione della regione Basilicata alle misure di conciliazione donna e lavoro. Lo ha detto il presidente della regione Vito De Filippo, che ha spiegato che la Giunta ha adottato la carta delle pari opportunità e vede attivamente impegnati gli organismi regionali nella diffusione di questa cultura d'impresa. Il problema di mancanza di competitività dell'Italia, ha continuato, è anche legato al potenziale inespresso, rappresentato dal mondo femminile. Per questo, ogni iniziativa tesa a migliorare le condizioni per l'inserimento e il mantenimento delle donne al lavoro non è solo un di per sé importante atto di giustizia, ma anche un'opportunità. Il mancato pieno coinvolgimento delle donne italiane nel sistema lavorativo, ha concluso De Filippo, per Banca Italia è causa della perdita di circa sette punti di PIL. E solo se la questione sarà correttamente inquadrata come opportunità e non come problema, si riuscirà ad essere veramente incisivi e accelerare quel processo di riallineamento di opportunità che nel nostro Paese è ancora troppo lento.